le collezioni di paolo paoliniu seguici su youtube e facebook oggi andiamo a recensire alcuni vecchi giocattoli questo sarà l'ultimo video l'ultimo video delle collezioni che arriveranno alle 10 del mattino queste sono tutte le collezioni che recensirò quelli vecchi quelli del 2010 fino al 2011 o cosa lo chiamiamo i vecchi giocattoli e poi tedis e katus hanno detto tedis e katus che ormai tedis e katus dicono che non vogliono mai apparire non ci saranno più tedis e katus in le collezioni paolo paoliniu non ci saranno più ma verranno sostituiti da mascotte ma la nuova sigla metteremo la mia faccia non la mia faccia la faccia di bobby delle beribis che sono io quello degli universi le collezioni paolo paoliniu con il logo di youtube facebook e instagram e qua diamo addio a ricona le collezioni paolo paoliniu con tedis e katus e cambierò è sempre la stessa sigla ma se ho disegnato bene facebook instagram e youtube dico le collezioni di paolo paoliniu e basta come fa la sigla di blay 2 per tedis e katus è finita se avrò molti soldi forse ci sarà una serie delle collezioni di tedis e katus o le collezioni di lauro laolinius gli spin off vediamo ma tedis e katus a giugno faranno le reaction ci saranno loro a fare le reaction agli primi episodi delle puntate delle collezioni di uva ian bene cominciamo ehi sarò io la mascotte? si spongebob si ma kinger ma kinger dov'è? sta facendo le riprese per l'ultimo episodio degli universi stagioni 2 ah ok anche tedis e katus ciao spongebob ci vediamo nella prossima puntata con una nuova serie di san calo junior o vetti chi ne sorpresa? non si sa ancora lo vediamo ciao via abbiamo questo pezzo del kinger gran sorpresa di tom e jerry del 2010 che avevo in presenso quando ero piccolo ma si è un po' rovinato poi abbiamo queste due bacchette della pesca e questa lola bunny porta chiavi che è un po' rovinata che non so quale porta chiavi scrivete in un commento qui sotto cosa contiene questa tizia ma è dei looney tunes un lanciadischi di benten o è delle colombine o delle uova di pasqua oppure del con bestiale raffigurato con benten prossimamente ci farò una recensione di benten valutiamo di nuovo la vecchia serie sulle parlando dei cartoni animati parliamo di benten prossimamente quello vecchio perché quello reboot fa schifo abbiamo un cucchiaio un coltello e un cucchiaio che faceva parte della serie della cucina quando ero piccolo volevo la cucina dell'asmo b e i miei genitori l'hanno preso ma l'ho rovinato la cucina è morta ma il sale e pepe ci sono ancora nella credenza e rimangono solo due cucchiai e un coltello della serie cucina smoothie l'auto del barone rosso di sraspide non si sa che fine ha fatto il personaggio di barone rosso di sraspide abbiamo mao nerino ciuccio e alfa star due alfa star questa è della serie di merendine kinder e ferrero del 2008 che era l'ultimo cartonimato della serie dei cartonimati da kinder e ferrero del periodo e poi hanno messo adesso c'è la disney la marvel a fare concorrenza perché adesso adesso di sorpresine delle kinder e ferrero ci sono gli audiolibri audiolibri di questi di questi tizi di quei cartonimati della disney pizza una macchina che sembra tanto almeno tale michele degli universi che prossimamente comparirà che è l'antagonista di lorenzo car che poi questa è una macchina del kinder sorpresa si un 056 mpg del kinder sorpresa e anche l'altra macchina del kinder sorpresa ma è della de 068 una metà cartina dell'unitunes activer che lo conservo per sempre guardate back bunny perché vi ho fatto vedere la collezione questo è un pezzetto delle mpg 1080 di un un puzzle dell'unitunes che ho perso vabbè si ho fatto vedere ho fatto vedere la collezione completa delle salate preziosi dei magneti dell'unitunes vabbè un righello di benten della salati preziosi patatine multipacco del 2009 benten che era famoso nel 2009-2010 perché nel 2006-2005 non era tanto famoso non faceva licenzi ma poi nel 2009-2010 hanno fatto il licenzi con benten vecchio bellissimo c'è ben normale i serie reotto materia grigio logo di benten 2x2 benten bello bello righello bellissimo fatto bene questo righello bello bello di benten un pezzettino del volantino della sigma degli anni 2000 walk che erano tutti insieme all'inizio patatine crocchia spack world un euro e 69 costava bello bello una mela della valle da ossa mela toalige igp santigoro val vale ossa 4 euro e 59 la bebe bebe e c'è anche un altro c'è quello della stupida salsiccia di suino di suino schifosa è un altro pezzo del volantino della sigma degli anni 2000 2010 2000 mortadella galbani a gustissima galbani a letto a agli questo è di tom e jerry questo è un castello di sabbia è di de 3 16 mpg de 3 16 poi abbiamo queste due una doppia di ciuchino dei gelati algida di shrek uno rovinato e l'altro non rovinato quasi un po' vabbè ma questo lo conservo per sempre l'altro un po' rovinato sera buono è un è una forza appunto di volontà di shrek dove c'è shrek che prende con ciuchino se avete visto i film di su italia 1 se elisa ha visto il film di su italia 1 vabbè non si sa come si aziona vabbè questo è l'h action di ciuchino e della serie shrek e vissero felici e contenti della dream house della quarta film dove shrek e fiona ha avuto dei bambini vabbè una nave cella di alfa star delle merendine kine ferrero del 2008 dei sra speed una pompa di avatar la leggenda di ang anche se non è avatar la leggenda di ang ma non ha licencing e di questo tizio calvo che fa sempre arti manziali ma non c'è il copyright questo è forse avatar la leggenda di ang forse lo mettono gli diversi questo avatar la leggenda di ang la talpa la talpa la talpa cia sapone molto bene questa è la talpa del chineso pesa del 2010 mpg mpg 0 19 e la lontra che c'è un po' con hanno le pance diverse e hanno i stessi particolari delle loro attenzioni molto bello bene bello mpg 1 0 15 quello è mpg un 0 19 quello è 0 15 questa è la lontra del kineso besa che faceva così la lontra questa è una lontra un castoro un castoro un 0 15 ho capito una conchiglia sticker del 2010 a caso che la prendevo nei quaderni ma lo staccato io quando ero piccolo puffo quattro occhi del kinder sorpresa dei puffi 2010 del 2010 un pezzettino di agnell friends 121 121 del 2010 come sempre come erano semi puffi nella serie di agnell friends di una 10 un 0 nelson dei simpson che era della serie del 2010 forse del kinder merendero del kinder sorpresa faceva sport questo qua avevo bart omer avevo anche questo questo nelson dei simpson che non c'ha nemmeno il codice lo c'era nella nel peristallo come agnell friends un dinosauro sticker tro appendevo nel quaderno ma lo staccato a caso comunque carino sto dinosauro carinissimo wakos vero ricordate gli stickers delle wakos wakos per tutti saremo mille questo stick è un po bruttino sembra accompagnato da tutti quanti e che devo dire questo stick è del 2008 2009 2010 circa ma non si sa neppure nessun valore a caso una lette moji del 2018 che aveva i cuoricini innamorato e del 2018 la serie di lette moji fiona di shrek dove c'è fiona che va all'attacco e fiona con la faccia da fiona che sembra a me delle beribis quello che ha fatto assomigliare un cartone non è il mio preferito bai sempre shrek comunque c'è tutto rovinato è rovinatissimo e si muove la card di fiona le immagini una card delle wakos wakos cybers wakos cybers extra il lettorino mp3 che suona perché manca la h e la c una bellezza questa carta più una carta cyberg puoi sommare i punti più 10 se volete parlare della serie di wakos scrivi in un commento qui sotto è un'altra card di wakos che si chiama wakos fizzit no fizzit fischetti fichetti fichetti wakos fichetti due nick watch lo sa nick la so ama lo sport se vince lui odia perdere soprattutto la fidanzata che bere le carte delle wakos un fichetto passa sempre e partecipa alla sfida era molto meglio erano molto meglio le carte del wakos peccato che adesso le wakos non fanno più le sorprese di una volta adesso non ci sono più più le sorprese adesso wakos è diventato una patatina normale che non compare niente non c'è wakos c'è non c'era solo gli occhi e poi l'hanno uccisi wakos ormai dimenticato da tutti cosa è morto wakos adesso è diventato le patatine per ragazzini fichi e wakos addio prima erano patatine per bambini poi è diventato patatine per adolescenti e l'icona delle wakos dimenticato come l'uomo delle calamere di riquistia tabù che l'hanno abbandonato negli anni fini anni 90 peccato è peccato un pesce tagliato a metà di legno che vattene a pesca e di legno è un gioco che avevo quando ero piccolo che forse parlerò di questo personaggio poi minion rubato dalla jama l'ho regalato a caso ok non l'ho rubato un minion del mcdonald's del happy meal che volevo molto un sacco questo minion carcelato di cattivissimo me tre del mcdonald's del 2019 e del 2017 sì e del 2017 esitta mi piace un sacco questo pezzo del minion carcelato di cattivissimo me tre dal 21 agosto uscirà cattivissimo me quattro e non vedo l'ora di quello e farò una recensione nel testi e recensioni film vedete com'è carino quel minion un pezzettino di annual friends questo questo è un pezzettino e questo è il completo pezzo quello è la cattiva di annual friends quella cattiva che non so il nome una diavoletta ma sembra proprio un personaggio delle winds e si è un po rovinato il naso i pantaloni comunque sezzi i braccialetti guarda anche questo c'è anche un altro pezzo di questo e il pestistale è completa la tizia è completa un 124 un pezzettino di amore di annual friends guardate come sezzi o è amore o è dolce non me lo ricordo il nome sezzi questa lo vorrei vedere il cartone matelo impareremo imparando dei cartoni mati comunque sezzi tizia e anche quella della di manier friends quella nera o è una winds e scrivete in un commento qui sotto se è una winds o una niel friends questa comunque questo è l'ultimo video di le coesioni paro pari new che arriva alle 10 e poi nel prossimo video delle coesioni paro pari new arriverà anche alle sette del mattino le sette del mattino per sempre come fa per italy nerd e blay 2 questo pesciolino che si poteva appendere nei quaderni ma lo staccato a caso ma comunque un carino questo pesciolino belino una moletta di legno pebucato un parapendio di questo personaggio qua da fidac e si è staccato la testa subito prima anche quelli di prima i pezzi di chiesopresa staccano subito i pezzi durante la diretta abbiamo da fidac che sia un po rotto e mai che un po rovinato è sempre rovinato e abbiamo anche silvestro che lo conserviamo così perché un po rovinati i piedi un elicottero rescue rovinato il vetro del avete capito poi c'è nelson del kinder sorpresa 2010 un po arrabbiato che gioca ok che ho anche il personaggio dell'erospina dei simson che è stato conservato per sempre non te lo faccio vedere grazie uno skateboard che si chiama un 163 uno skateboard a caso e dell'unitunes oppure dei simson cosa ci fai tu usa i bolted ma è del kinder sorpresa 2017 come questo del 2017 e questo minion del mcdonald barbabella che si completa le femmine dei barbapapà dolci preziosi della serie dolci preziosi di barbapapapà che lo specchietto l'ho rotto io quando ero piccolo ma fa parte degli universi barbabella questo mostro del kinder sorpresa che non c'ha nemmeno gli occhi e i denti adesso è sembra un mostro molto serio degli anni 2090 quello che è che poi è del del 2010 non è degli anni 80 e 90 un 029 appunto una farfalla che lo appendevo nei quaderni e si è rovinata a posto guardate com'è carino il tenero ed è morbido un questo è di puffo quattro occhio di qualche puffo non ricordo un tubo questo è dei puffi del kinder sorpresa del 2010 un pacco regalo del kinder sorpresa dei puffi 25 ma dov'era quel codice nel nel personaggio di chi le sapete i puffi vabbè ma non c'era un altro skateboard dei simpson o di looney tunes o è di o del gatto silvestro no non è del gatto silvestro abbiamo anche questo di k c'era dei giocatori toy center made in china fatto in cina fatto in cina che ha delle rotelle un po' a caso e eccetera eccetera questo giocatore molto vecchio di 10 anni fa anche di 13 anni fa questo giocatore 13 anni fa che è stato conservato a caso guardate anche le gambe della protagonista di annual friends sexy ecco la doccia la doccia è la mia preferita lo sai protagonista di annual friends un coso giallo una pelle a vabbè giallo con i briantini non si sa di quale costume di teletabis quando ero piccolo oppure di qualcos'altro di un peluche di un giocattolo non lo so questo è dan idum drago idrus che si trovavano nei gelati motta collezione alle 12 carcele particolari di bakugan 2009 bakugan va tre varie nel che bakugan cambiava protagonista adesso non lo danno più in onda comunque carino dan dan prius drago di dinini ne ho alcune ma poi ne parleremo prossimamente in un video non voglio parlare tutto dei gelati motta di bakugan cercate su google chrome delle informazioni dei gelati button bakugan cosa ci fa quel coso qui ma è dei pandorini e dei combine questo qua l'ho avuto da sacco di tempo ma è un po' rovinato questo è la penina di bart non sono stato io ciucciati il cassino comparirà negli universi e guardate è un po' rovinato non si sa perché l'ho rovinato io quando ero piccolo l'ho rovinato questo pezzo del make day kinder joy kinder sorpresa kinder merendero dei simpson non lo so se lo metterà nel computer veri e propri questo pezzo comunque si cambia è intergalabile guardate ciucciati il cassino e poi abbiamo scarabocchi i miei disegni questa è la mia cartellina di paolo ehm non posso analizzare tutti c'è il bambino un po' brutto e idiota scarabocchi imparare e disegnare non è stato mai così divertente i miei disegni un albero molto contento sembra proprio mela verde di adventure time il fiore rosa il fiore azzurro a caso il fiore rosa dei arancioni fiore azzurro ci sono due volpi che sembrano brutte due papere papere gialle un coniglietto una farfalla che hanno tutti la bandiera bianca perché sono tutti si sono arresi e il treno li convince a a fare dei cattivi siete tutti arresi ragazzi si siamo tutti arresi bene tutti arresi yeee questo treno è malefico forse lo comparirò negli universi ma non so cosa sia si apre e c'erano i miei disegni quando ero piccolo disegnati da me una persona un coniglietto un'auto olè e questo tizio chi è? una stella un'auto scarabocchi i miei disegni va bene adesso vediamo l'ultimo 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 vecchio giocatore poi andiamo a finire il video abbiamo un pezzo della serie di cars che non c'è il disegno del site a me qui questo è del questo è una pallina che lo conserviamo per sempre dei distributori automatici qua abbiamo una miniera a cazzo qua questo è un giocatore qua c'è cars site a me queen che cars è il il primo il primo prossimamente parlerò nel testiglone show movie ne avete scoperto testiglone show movie la recensione di film di animazione al posto dei catonimati perché c'è una commentatrice stupida che commenta il titolo ma adesso c'è per fortuna nel testiglone show tu non c'è un altro commentatore perché non è monica notta è un tizio ramona spiga che commenta sempre che poi teledlone to show l'ho già portato semi pompiere l'ho già portato questo tizio qua saluto ramona spiga prossimamente arriverà testiglone show movie parlerò di tutti i tre capi di cars quando guarderò tutti i tre cars e anche moses incorporated toy story parlerò anche di dream oz tutti i film tipo della film parleremo tutti i film un giorno cazzo lo parleremo prossimamente come secondo episodi no non voglio spoilerare no una strada dove c'è questo duna caso qua e un niente va bene queste sono le fantastiche sorprese non siamo nelle nuove sorpresine ma siamo nei vecchi giochi questi sono i vecchi giochi che ho nella mia scatola forse ne scrivete in un commento qui sotto se ne volete altri di questi robe simili di vecchi giochi e scrivete in un commento qui sotto se volete la collezione di shrek di benten di simpson di bakugan di wakos dei lunitoons dei younger friends e di tutti e vi porterò sul canale prossimamente vedremo dopo le nuove collisioni che escono della san carlo junior salati preziosi ovetti eccetera eccetera da recuperare quindi questa è l'ultima apparizione del dell'icona le collisioni paolo paolo new con tedis e catus seguici su youtube facebook e instagram e cambierà un altro che lo cambierà dal 10 giugno con una nuova icona ciao a tutti le collisioni di paolo paolo new seguici su youtube facebook e instagram e saremo le mascotte delle collisioni paolo paolo new via via e vi ricordiamo che anche questo di yokai watch delle medaglie del 2018 2019 non so come si chi è e snoopy delle mcdonalds del 2018 quello con la luce interio e c'è anche quel coso giallo che non si sa ancora il nome e voi non avete ancora scritto il nome di questo tizio giallo che non si sa ancora grazie spongebob di aver sistemato saremo mille e quella tizia delle wakos qua non c'è di che non c'è di che ci vediamo dal 10 giugno ciao 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 Metali Nerd e Blade 2 Sì